Ciao a tutti da CristianTJ, il salutatore del blog, eccomi qua, Scoop, la risata più forte del web Guardate con chi sto, guardate con chi sto ragazzi, è bellissimo, oggi è bellissimo Dedicato solamente a voi e a tutti gli amici di Youtube, MySpace, Facebook, Twitter, Gruppone, anni 70-80 Esatto, e poi non mancate l'evento di Lonellana a Bertè Grande Lonellana a Bertè, 4 maggio, venerdì, Spazio 900, realizza Paolo Pasquali E ci siamo, per Big One, ciao Ciao ciao